Ah guardate qua in mappa Che c'è l'Elysium Che è prima stazione orbitale Quindi non è Non è proprio l'Elysium Elysium eh E già ci dovrebbe dire qualcosa questo Però che posto è? Perché magari ci sono dei riferimenti a qualcosa Non lo so Non so che cosa Io ogni volta che No non è riferimento a niente Cioè non Axiom Blade 1 no Non so se forse all'X Non lo so perché ogni volta che vedo queste strade Degli strani edifici Serbatoio d'acqua Forse questo può essere ricoperto da alberi fiori come il Gormoth Cioè su Xenoblade 1 non c'era tutta Tutta sta roba Vedete questi edifici Con dei parcheggi per auto Tipo Strade Cioè magari è proprio un posto a caso Può essere Sì il Morita mi ricordava di più Xenoblade X comunque Eh sì Sì ma che cacchio è Come faceva a stare in piedi se si è polverizzato così Ma va là Ma Cos'è che l'ha ridotto così? È successo qualcosa sicuramente No Sto posto non so che cacchio sia Gli evitanti venivano a giocare In un parco giochi Però è strano No mi ricorda Mi ricorda sì Coso Xenoblade X Anche la La chiesa là Non so se avete presente il distretto Commerciale Come si chiamava? Il distretto residenziale Quello dove c'era la chiesa La cattedrale O comunque dove c'erano tutte le case Però mi sembra Mi sembra strano Più che altro di sicuro non è Xenoblade 1 Xenoblade 1 non aveva Non aveva sicuramente Edifici alti Questo me lo ricordo bene Xenoblade 1 aveva Delle casette Al massimo Costruzioni fatte un po' così Però Boh Non so che cacchio sia Può essere anche un coso nuovo Ecco qua È qua da È qua da Qui arriva È da qua che arriva il suono Le campane Che strano Però può essere anche che Magari le campane si sentivano Anche da Da lontano Quindi più in là c'è il posto Quello verde Ma guarda Assolutamente È il vento che le ha aperte In questo esatto momento Dopo anni e anni Che sono state chiuse Il vento le ha aperte Proprio in questo momento Concirenza Ovunque Sotto Sotto Eh Quanta tecnologia lì Antico tempio Qua c'è un organo Un organo a canne Ma non è stato il col suono Ok Che sia qua sotto Forse Cioè Malos Si è fatto tutta sta strada È possibile È possibile Che Malos Abbia anche distrutto Tutto forse Non so perché Non so perché lo sto facendo C'è le persone normali Dai Qua Se fossimo in Giappone Lì ci saremmo già schiantati Contro la gente Per forza Là non vogliono sentire storie Però è vuoto Faccio quello che voglio Sì Sì qua è rimasto tutto Ho sparito tutti fuori Ok quindi Molto probabilmente È una È un'illusione Allora È tutto un'illusione Cioè Dico anche Il Cioè Dico anche Anche tutto l'esterno Tutto Desertico E robe così Che non c'è più il verde Molto probabilmente È tutto un'illusione Eh qua Fatti stiamo nel Mordain Ciao Perché lì ti ricalci Che rispetto Lasciato a casa Però c'era Sbaglio c'era l'albero del mondo Lì Lì vicino Cioè si vedevano I rami e le foglie Dell'albero del mondo Però Sembra il Mordain Questo Questo è Gormut Che siate Si ma Sicuramente È un'illusione Quella tua amante Non ci si può fare niente Cosa cosa Stiamo calmi eh Stiamo calmi No cosa A parte che siamo con Boreas A caso No ma cosa Cosa vuol dire Cioè a parte che è livello 73 Quindi è praticamente Come l'abbiamo allenata Bello Un combattimento molto entusiasmante Con una colonna sonora fantastica Cioè roba che Siamo morti Siamo morti No aspetta Adesso però non mi venite a dire Che io devo batterla per forza Cioè piuttosto Dittemi che Cosa? Ah bene No dobbiamo batterla per forza Ah bene E qui che voglio vedere E Porca vacca Cioè noi dobbiamo batterli tutti I nostri compagni Perché probabilmente dopo ci saranno anche gli altri Dobbiamo batterli tutti E sono tutti al 73 Penso Cioè Tranne Zeke E Morag Che sono al 74 E 75 Quindi sono più alti di noi Con Cioè Non posso fare combo Praticamente Non riesco a fare le combo Gladius Perché Sono impossibili Con un solo tipo di personaggio Sarà bello Bellissimo Ci divertiremo un sacco Ok ok Stavolta ce la facciamo Basta fare le due combo Complete con loro Fuori Ok Perché si ricarica anche Cioè Lei Lei è una guaritrice Nia Quindi si ricarica E E E dura E tosta E difficile Ma però Appunto Ma però Italiano Signore Adesso voglio dire gli altri Come faccio Perché prima avevo Nia nel gruppo E con Nia nel gruppo Giustamente È lei che ti cura Te non devi A parte Tora Che tanca C'è lei che cura Quindi È a posto Eh Sarà dura Qua ci sarà Morag Morag Poi ci sarà Coso Zik E infatti Eh sì Vabbè Lei Oddio Però se muoio Se muoio Come facciamo Me lo fai rifare tutto No Cioè Mi preparo per lei Uso l'acqua Giustamente Perdere tempo Mi son perso No Son perso Cos'è Ah Ok Non è che Forse non ce lo fan battere Morag Speriamo Adesso caderemo Nel tanto Al tanto No Nel tanto Al tanto Ah no Siamo giù Direttamente A Morita Ok Foto prima Hai visto Ah Adesso Sono anche qua È vivo Nel Ma in realtà No Sono perso E basta E via Perché puoi tirare fuori La spada Che non ce l'abbiamo Non ce l'abbiamo Paira Non so se Te ne sei accorto Non puoi tirare fuori Una spada Che non hai Vabbè La procedura è quella Cerchiamo di fare le combo Con loro tre Dato che si può E si può anche morire Ovviamente Bisogna fare in modo Che lei non ci ammazzi Ho capito Funziona così Quindi sto gioco Mi dà fastidio Solo il fatto Che ogni volta Devo ripartire da qua Devo rifare Tutte le scale Verso il basso Perché Fammi partire direttamente Da fuori dalla battaglia No Tutte le scale Ti devi rifare Da capo Basta che adesso Non mi fate ribattere Nia di nuovo Perché No Se no Ti ammazzo Se devo rifarmi ogni volta Tutti quanti di fila No Ok Ripartiamo da morag Riproviamoci No In un qualche modo Ci ammazza prima Quindi dobbiamo cercare di resistere In altri modi Stavolta ce la facciamo Stavolta ce la facciamo Assolutamente Basta fare la mossa Di livello 3 Di livello Veloce 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 Ce l'ho fatta Ce l'ho fatta No ragazzi È stato Difficile Sarà che Probabilmente Perché non so Far le cose Però L'ho dovuto mettere Arex No comunque Scusate Sì Arex L'ho aumentato Le Diagrami intese L'ho messo E Le usate E le ho messo Che tipo Potevo usare Tutte e tre le mosse Caricate Quelle lì XY e B Da subito Quindi già le ho avuto Tutte e tre E le ho messo Quello Poi le ho messo Gli oggetti A A cosa Ai tre Nia No scusate Nia Boras Rock E Quell'altra Che adesso Mi viene in mente Il nome di Terra E le ho dato Degli oggetti Che comunque Mi aiutavano in battaglia Tipo il recupero Di vita La difesa Le ho dovuti Un po' modificare Ecco Semplicemente Perché se no Non Boh Potevo usare Altri personaggi Adatti Magari Che facessero Danni d'acqua È vero Che c'è anche lui Aspetta Con loro No se me li danno Da batteri Entrambi Non ce la faccio No Entrambi No Ti prego Non ce la faccio No Entrambi No Quello non lo so Porca vacca No Entrambi No C'è Tora C'ha La difesa Assurda Zeke C'ha L'attacco Con calma Io ho già Gli ho già dato Dei Gladius Di secondo livello Che non rompa No 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 Entrambi No No Entrambi Non ce la faccio Vi prego Vi prego Non entrambi Entrambi Mi sa Mi sa proprio Entrambi Porca vacca Posso dire Al 100% Che non ce la faremo Mai Probabilmente Già non riesco A tirare giù Tora Ora come faccio A tirare giù Entrambi Non ce la farò Mai Ma va là Ma va là Ma cosa sta No ma va là Devo salire di livello Che sarebbe comunque Inutile penso Devo avere diversi Gladius No non ce la faccio È impossibile Ragazzi è impossibile Devo Probabilmente devo Fare diverse cose Ancora Per esempio Usa cristalli Ausiliari Potrei Come vedete Gli ho dato Diversi oggetti A loro 10% Danno da fuoco Perché Era con Morag Loro Gli ho dato Altri Cosi Penso che Dovrei Anche creare Nuovi cristalli Ausiliari Da usare Su di loro Perché alcuni Non li ho creati Ancora Sono vuoti E non posso Usarli Potrei modificarle Le loro armi Devo studiarmi Un po' Che tipo Di Roba Darli Addirittura Guardate A rock Non gli ho dato Niente Di autoattacco Lui fa 98 Con un semplice Cosa Arriva a 570 600 Cioè comunque Vedete che Non gli ho dato niente A loro Devo potenziarli un sacco Uguale Lui Identico Però Penso che Se mi posso Fermare qua Che posso magari anche Teletrasportarmi in giro Se è possibile È possibile Perfetto Per cui ragazzi Io Dopo quasi 3 ore Che sono qua dietro Tra Blade Da fare Gladius Lee Che ho fatto Queste battaglie Qua Filmati Questi sono arrivati a 3 ore Termino qual'episodio Ci vediamo A prossima parte Dove di sicuro Andremo a battere Zeke Tora Probabilmente Il cosa L'architetto Che succede Non so Malos Logos Vabbè Loro Andiamo a battere tutti Una strage facciamo Per cui sì Ci vediamo In la prossima parte Sempre su Xenover Chronicles 2 Qui dall'anno Il fetutto Ciao a tutti